Le persone vengono nella tua vita per una ragione, per una stagione o per tutta la vita. Quando saprai perché, saprai cosa fare con quella persona. Quando qualcuno è nella tua vita per una ragione, di solito è per soddisfare un bisogno che hai espresso. È venuto per assisterti attraverso una difficoltà, per darti consigli e supporto, per aiutarti fisicamente, emotivamente o spiritualmente. Può sembrare come un dono del cielo, e lo è. È lì per il motivo per cui tu hai bisogno che ci sia. Quindi, senza nessuno sbaglio da parte tua, o in un momento meno opportuno, questa persona dirà o farà qualcosa per portare la relazione a una fine. Qualche volta se ne va. Qualche volta muore. Qualche volta si comporta male e ti costringe a prendere una decisione. Ciò che devi capire è che il tuo bisogno è stato soddisfatto, il tuo desiderio realizzato, il suo lavoro è finito. La tua preghiera ha avuto una risposta, e ora è il momento di andare avanti. C'è chi resta nella tua vita per una stagione, perché è arrivato il tuo momento di condividere, crescere e imparare. Ti porta un'esperienza di pace, o ti fa semplicemente ridere. Può insegnarti qualcosa che non hai mai fatto. Il tuo tempo spesso ti dà un'incredibile quantità di gioia. Credici, è vero, ma è solo per una stagione. Le relazioni che durano tutta la vita, ti insegnano lezioni che durano tutta la vita. Cose che devi costruire al fine di avere delle solide fondamenta emotive. Il tuo lavoro è accettare la lezione, amare la persona, e usare ciò che hai imparato in tutte le altre relazioni o momenti della tua vita.